ho visto molti insulti nei miei confronti perché non mi sono espresso su quella che può essere la goth league che è una roba che hanno fatto copiatissima con la king's league e via dicenda però non è importante il copium è l'ultima delle cose importanti nel senso che abbiamo finito di effettivamente fare prodotti chiunque copia chiunque e via dicendo anzi è apprezzabile il pensiero di fare qualcos'altro semplicemente si sta lavorando a qualcosa di un po' più interessante di questo e quindi non è che uno si mette a fare le reaction se deve effettivamente fare qualcosa di un po' più cioè si deve fare qualcosa che comunque va in conflitto con solo quello però è sempre apprezzabile il pensiero e l'evento in generale certo io avrei preso un po' più alla mano il fatto che sia uguale completamente alla king's league che comunque bisogna sempre ricordarsi di una cosa i ricchi sono stronzi come la merda cioè più più i ricchi possono cagare il cazzo e più cagano il cazzo quindi se Pichè può rompe i coglioni romperà è rivisitato no non è rivisitato però ma comunque non è Grazie a tutti